Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto 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 bene, dai. Allora, oggi fa veramente caldo, infatti sono qui per cercare un po' di farci dimenticare questo caldo. Infatti oggi farò un video dedicato un po' all'acqua, ai suoni lid, alle creme, a un po' di cosette. Visto che adesso siamo in vacanza e praticamente saremo tutti al mare. O magari qualcuno oggi è stato e adesso è ritornato a casa. Spero non vediate quanto ho caldo. Però vabbè, dai che se tutto va bene nel prossimo video, video, aiuto, non so più parlare. Mi vedrete anche con i capelli tagliati perché è un po' lunghine adesso, però vabbè. Allora, io direi quindi di cominciare. Indostrate un paio di cuffie, cuffie o auricolari. Stendetevi sul vostro letto, così, per dormire. E cercate di chiudere gli occhi, va bene? Allora, io vorrei cominciare con qualcosa proprio di semplice, semplice. E andando avanti, migliorando man mano, andando avanti. Sì, ho preso un burro cacao. Non il mio perché l'ho finito. E cosa farò? Te ne metterò un po' addosso. Questo è profumatissimo, mamma mia. Sa un pochino di biscotto, tipo, non lo so, ma è veramente buono. Quindi cosa faccio? Faccio così. Te ne metto un po' sulle labbra. Lo facciamo riscaldare. Toglieno anche un po' l'eccesso e te lo metto sulle labbra. Sulle labbra. Ok, ok. Ok. Prendiamo poi la mia amatissima crema qua, che avrete già visto un botto di volte. Facciamo un po' di sogno anche con questa. Di questa però ne prendo un po'. Addio, 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 addirittura pure troppa. Ti la massaggio un po'. Massaggio, massaggio, massaggio. Ti la massaggio un po'. Cerchiamo di esternare tutto il caldo che fa. Tutto il caldo. Lo esterniamo, 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 esterniamo. Così. Adesso la riprendiamo e chiudiamo. Quindi, adesso stiamo cercando di esternare un po' il calore e vorrei fare adesso un suono, un piccolo, piccolo, piccolo suono. Cercando un attimino di sistemarmi. Ok. Così mi si vede bene, sì dai. Ho preso, guardate un po'. Ho preso, guardate un po', questo graziosissimo parattolino col tap pure cute. Lo adoro, basta. Sia per fare un po' così, pochino, pochino, guardate che carino. Ok, adesso, però, ti prego, non mi mettere fuori fuoco. Così. Così. Ma soprattutto per fare così. Ma quanto è bello. io l'adoro. Io l'adoro. Pensate all'acqua che c'è dentro. Acqua, 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 acqua. Acqua, tutto si è fresca. Acqua, 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 acqua. Ok, 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 possiamo pure questo qua, questo vi giuro non mi sembra di averlo mai fatto così, mi è piaciuto troppo, intanto guardiamo anche un po' negli appunti se sto facendo tutto giusto, attualmente sono le 3.23 di notte, però mi sento proprio tranquillo a registrare, sapete, certe volte quando devo registrare mi sento un pochino in ansia, tra virgolette, perché voglio che il video vada bene e altre cose, quindi sono un po' in ansia, adesso però vi giuro mi sento tranquillo, proprio anche rilassato, adesso prendiamo questa base masca, se io spero aprire l'ho. già solo che l'ho aperta è uscito un odore di anguria, buono, però non anguria fresca, più anguria dolce, perché sì, molto dolce, guardate che carina la consistenza dentro, rossa con, spero si sia vista, non mi abbia messo fuori fuoco, con tipo i semi, bellissimo, a tutti i semi, bellissimo, a tutti i semi, sono stati, per esempio, i semi, è la sola. Ok, allora basta quello di questo, adesso ho tenuto per ultimo un altro suono fatto con l'acqua, un suono che avete già visto poche 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 volte, di solito lo riporto appunto in questo periodo quando fa veramente tanto caldo, un po' per rinfrescarci, anche se non è che ci rinfresca proprio bene materialmente parlando. Allora, ed è quello di questa ciotolina d'acqua con dentro un'altra ciotolina d'acqua più piccola, con i buchi sotto. Serve appunto per fare così. Capito? Quindi pensiamo all'acqua, all'acqua. Acqua come elemento, acqua. Solo che magari non mettiamo il braccio davanti che poi non vedete nulla. Acqua. Sentite bene il suono? Le goccioline. mi vedete bene? Solo che sto sudando, mi dà proprio fastidio il sudore. adesso pensiamo alle goccioline d'acqua che sentite. Io le adoro mamma mia. guardate così. Non so se si è visto tanto. Spero, spero, spero si sia visto bene. di qua devo farlo con questa mano. Che poi sono anche al limite dell'inquadratura. A questo. Non so se si è visto tanto. Io poi vediamo. Guardate qua. 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 Aspettate. Adesso praticamente lo possiamo. Ok. Ogni tanto è meglio controllare che stia registrando tutto. E niente, io ho raggiunto la fine del video. Quindi, cucù, cucù. Penso sia giunto il momento della buonanotte. Buonanotte perché dobbiamo andare a dormire. Quindi, iscrivetevi al canale cliccando sul tasto rosso proprio qua sotto. Nel caso non lo aveste ancora fatto. Per entrare a fare parte della OOPS community. E se siete dei maschietti, diventare i miei UPSini. Mentre se siete delle femminucce, diventare le mie UPSine. Lasciate un bel mi piace. E commentate sempre qua sotto con tutto quello che vi passa per la testa. Mi fa molto piacere ricevere i vostri commenti. Quindi, non fatevi problemi a scrivermi o mandarvi un bel commento. Se il video vi è piaciuto, cosa dovrei migliorare magari. Decidete voi. Il video di oggi purtroppo finisce qua. Ma tu, se vuoi stare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente. Di qua una mia playlist. E qua, sullo schermo, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. Quindi, non ci rimane che salutarci. Perciò, buonanotte. Un bacio. E ci vediamo al prossimo video, dai. Buonanotte. 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 Buonanotte.